Due funghetti, un mese da ammino e ben ritrovati su Fortnite. Oggi, ragazzi, vedrete degli spezzoni di video dove sono capitate cose assurde. E, soprattutto, ragazzi, dovete vedere cosa ho trovato. Qui mi sa che funziona il karma, cioè... Fortnite ti dà, Fortnite ti toglie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due di vita! Due di vita! Due! Mamma mia! Sì, anche quella. Sì. Sì. Mamma mia. Per pochissimo. E ora giochiamocela. Oh, sì! Sì. Sì. Medikit. Sparano a noi? Sparano a noi? Che c***o, ragazzi, abbiamo trovato davvero la pistola silenziata. Vediamo quanto è forte. Oh, però io non trovo mai nessuno, eh. E che cavolo? Tutti i posti in cui vado? Vabbè. C***o. T***o. Sì. C***o. Seguì. C***o. C***o. P***o. P***o. Grazie a tutti. Boom! No, io ve l'ho passato da dietro! Cavolo! E andiamo! E andiamo! Facciamoli vedere che comanda. Oh, anche qui! Attenzione! E andiamo! 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 Perfetto! Quattro! Mamma mia! Ragazzi siamo pieni di pozioni! Non ci potrebbe andare meglio sicuramente! Quattro! E andiamo! E andiamo! E andiamo! e vabbè che cacicbolo che casino boh non ho subito niente ragazzi eh ricordatevi oh la balestra sì la balestra per un casino che cazzo ho trovato dai no ragazzi che cazzo butto che cazzo butto che cazzo butto c'è anche metalliatrice oh ragà non lo so questo mi sa che mi fa i danni assurdi questo serve l'unica è questa cosa qui si beve si va a 100 e si prende il metalliatore eh lo so lo so è sprecatissimo è sprecatissimo ma purtroppo devo prenderlo no 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 No, era sopra. Vai, vai. Però uno col piccolo l'ha ammazzato. Va bene così. Va bene così.